E' morto uscendo di strada con la sua auto, una Porsche Cabrio di una decina d'anni, intorno all'1.30 di notte sulla Pergolese vicino al paese di San Lorenzo in campo. La vittima si chiama Giuliano Avaltroni, 50 anni, molto conosciuto in paese in quanto il proprietario dell'omonimo ristorante Bar Tabacchi che gestisce insieme alla madre, in via località Mirabello al Civico 20. Tra le cause forse l'alta velocità e l'asfalto ghiacciato. Il conducente ha perso il controllo dell'auto ed è finito nel giardino di un'abitazione privata. Giuliano Avaltroni era stato a cena con alcuni dipendenti del ristorante, poi aveva deciso di trascorrere ancora un po' di tempo in compagnia di amici in un bar di San Lorenzo. Al ritorno, tra l'1.30 e le 2, lo schianto. Nella corsa la Porsche è uscita di strada finendo nel giardino di casa della famiglia Brescini, che in quel momento stava addormento. Stamane gli inquilini hanno riferito ai carabinieri di aver sentito un rumore, ma di non aver pensato ad un incidente, tant'è che si sono alzate nel cuore della notte, hanno acceso le luci in giardino, ma non si sono accorti di nulla, nemmeno della macchina, che era finita, nascosta dalle piante. Qualcuno l'ha notata soltanto al mattino, verso le 5.30 e ha chiamato i soccorsi. L'incidente è avvenuto a poche centinaia di metri dall'abitazione della vittima. In questo appartamento, in una palazzina sopra al ristorante, Giuliano Valtroni non era sposato e viveva con la madre, mentre il papà era morto un anno fa. Oltre alla mamma, lascia anche una sorella che vive a Senigallia, da stabilire la data del funerale.